Saltate 3 delle 4 test di serie. Pordenone, Crotone ed Entella per il Pescara terzo successo e 10 gol in 4 gare. Ora la semifinale col Foggia. Sul campo dell'Entella, Biancazzurri non belli ma con l'uomo in più, espulso reali, concreti e letali. La forma fisica sembra essere davvero un fattore. Da Picerno in poi, nei secondi tempi, Biancazzurri crescono mentre le avversarie arrancano. Bastava il pareggio. Il Pescara è andato oltre vincendo meritatamente Terraligure per 3-2. Entella è vero, in emergenza, ma in casa è imbattuto da 5 mesi e mezzo. Zeeman è arrivato a fine febbraio, ovvero tre mesi fa. In 13 partite della sua gestione, Brosco e compagni hanno conquistato 8 vittorie e 3 pareggi. Soltanto due i passaggi a vuoto a Messina e a Taranto. Uniche partite nelle quali il Pescara non è andato a segno. Per il resto, ben 28 reti realizzate. Bilancio nettamente positivo, con un organico competitivo, ma non eccelso. Valore aggiunto, non ci sono dubbi il Boemo, che nel ruolo di vice Lescano in Terraligure ha scelto e rilanciato Cuppone. Risultato finale, i gol ritrovati dopo addirittura sei mesi. Ben due è la solita prova di grande generosità. È stata la super serata dell'ex potenza, strameritata per impegno, dedizione e professionalità. Mai titolare negli ultimi quattro mesi, Cuppone ha aspettato che tornasse il suo momento in silenzio, senza fare polemica. Soprattutto ha risposto con i fatti. Così come continua ad essere decisivo Marco delle Monache. Altro gol, il terzo in quattro partite. Altra gemma, sterzata, marchio di fabbrica e colpo da biliardo sul palo lungo. Ora la semifinale col Foggia. Che incrocio tra Zeman e Rossi. Domenica prossima, 4 giugno, prima gara allo Zaccheria. Ufficializzato l'orario. Si giocherà alle 20.30. Le Cazzurri senza gli squalificati, Brosco, Milani e Palmiero. Erano diffidati. Tutti e tre sono stati ammoniti. Satamelli privi per lo stesso motivo del difensore spagnolo Rutiens, ma rientrerà Leo. Giovedì, 8 giugno, il ritorno all'Adriatico. Sempre alle 20.30. Nell'altra semifinale si affronteranno il sorprendente Lecco che ha fatto fuori il Pordenone e il Cesena che invece ha eliminato il Vicenza. Non ci saranno più teste di serie. Entrerà in scena il VAR. In caso di parità di punteggio complessiva passeranno il turno le squadre con la migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità, tempi supplementari e eventualmente calci di rigore.